siamo ancora qua non possiamo più perdere non ha venuto niente e figurati che non ha venuto niente non una, due oh scusami vai tranquillo ho un pezzo là un pezzo là e sono sempre gli altri quindi quelli che io faccio uno che è meglio ah ma la faccio ma dove fai tu? Grazie. 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 Guarda cosa ci porta stavolta, sta scherzando. Non è la riserva, c'è una sola. No, se l'avrai della tavacchia, non ce la vuoi di portare. Però così ho finito, non ci penso più, cambiamento bene.